Ehi, bella gente! Pietro Spataro è qui presente. Oggi parliamo della partita delle nazionali, a parlare del nostro Portogallo. Allora, Portogallo-Lichtenstein. La nostra prima partita, la buona la prima, diciamo, ce l'ha, per la qualificazione agli europei del 2024. In Germania si giocherà l'europeo, si disputerà in Germania. Che dire, è stato un allenamento contro... contro una nazione di poca roba come il Lichtenstein. Lichtenstein che squadra è, con tutto rispetto. Tutte le bighe ci potrebbero vincere contro il Lichtenstein. È stato un bel 4-0. E si va avanti. Allora, il primo gol nell'era del nuovo allenatore Martinez, il pelaticcio, è già di Gio Cancelo. E poi, ma tiro da fuori aria di Gio Cancelo, bellissimo è stato. Poi, ha un po' spaperato il portiere del Lichtenstein. La differenza del portiere d'Ebole c'è. Poi, Bernardo Silva fa il 2-0 nel secondo tempo. Grande. E poi, calcio di rigore per il Portogallo. Fallo su Gio Cancelo. Parte Ronaldo e segna. Suuuu! E segna anche su punizione il quarto gol. CR7. Doppietta. E altri due record conquistati. Segna ancora su punizione CR7. Permettetevi fare questo? Suuuu! Grande Ronaldo! Mi hai fatto stragodere stasera. Sono molto contento. Per i due gol. Si vola avanti, ragazzi. Ora testa a Lussemburgo. Contro il Lussemburgo. E sarà, per me, un'altra bella vittoria. Forse segnerà ancora Ronaldo in questa partita. Ok? Ci vediamo al prossimo video. Forza Portugal! VAMONOF! Ciao belli!